Un nuovo numero da utilizzare con l'applicazione WhatsApp per chiedere aiuto in caso di violenza. Il lungo periodo di confinamento forzato in casa dovuto alla diffusione della pandemia ha purtroppo acuito i numerosi episodi di maltrattamenti registrati dalle forze dell'ordine e dai centri antiviolenza, ai danni di donne e minori all'interno delle mura domestiche. Durante le lunghe ore di convivenza forzata con il maltrattante, come è facile immaginare, si sono quasi totalmente azzerati gli spazi utili per consentire alle vittime di poter chiamare al telefono e chiedere consulenza o nei casi più gravi un immediato intervento. Per questo il centro antiviolenza Ipazia ha deciso di istituire, oltre al consueto 0931 49 2752 attivo H24, un numero mobile dedicato, il 3496224069, al quale le vittime potranno chiamare o inviare in tutta sicurezza e in maniera anonima anche solo un messaggio, una frase di poche parole, per chiedere aiuto tramite la popolare applicazione di messaggistica WhatsApp. Resta a casa ma lascia fuori la violenza, non sei sola, chiedi il nostro aiuto. Non è solo uno slogan, spiega la presidente Daniela Laruna, ma un invito concreto a tutte le donne da parte di noi operatrici dei centri antiviolenza a non subire più maltrattamenti a sottrarsi a quella che potrebbe diventare una situazione senza via d'uscita. I fatti di cronaca, continua Laruna, ci raccontano ogni giorno di donne ragazze e minori abusati tra le mura domestiche. Nemmeno la ricorrenza del 25 novembre ha fermato la mano degli assassini, mariti, compagni e fidanzati che fino all'ultimo dicevano di amare le proprie vittime per poi ucciderle barbaramente. Uscire dalla violenza si può e si deve, conclude Daniela Laruna. Chiamateci, mandate un messaggio e insieme proviamo a cambiarla la vostra storia. Ricordiamo il numero dove poter mandare un messaggio whatsapp 349 62 24 069.